Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. In questo video menzionerò alcuni dei problemi comuni che i Volvo XC90 Sport Utility Vehicle dal 2016 al 2022 sono inclini a riscontrare. Numero 1. Alcuni modelli 2020 e 2021 sono stati richiamati negli Stati Uniti a causa di un'unità, idraulica ABS difettosa che rischia di guastarsi improvvisamente. Quando questa parte si guasta, il veicolo avverte mancanza di servofreno. Il sistema ABS viene disabilitato e le spie ABS, ESC e brache si accendono sul quadro strumenti. La riparazione consisteva nella sostituzione dell'unità idraulica difettosa con una nuova sostituzione migliorata. Numero 2. I tappi di plastica delle pulegge di fasatura variabile delle valvole in alcuni motori a benzina da 2 litri. Tendono a rompersi causando perdite di olio e devono essere sostituiti. Numero 3. Il compressore d'aria della sospensione posteriore in alcuni modelli dal 2016 al 2020 è soggetto a guasti prematuri e deve essere sostituito. Numero 4. Il modulo generatore inverter in alcuni modelli ibridi XC90 T8 del 2016 e 2000 è soggetto a malfunzionamenti e guasti prematuri e deve essere sostituito. Numero 5. L'evaporatore dell'aria condizionata in alcuni modelli dal 2016 al 2019 è soggetto a perdite di refrigerante che impediscono al sistema di condizionamento di emettere aria fredda e deve essere sostituito. Numero 6. Il sensore di pressione del carburante in alcuni modelli del 2016 è soggetto a malfunzionamenti e fa accendere la spia del motore di controllo sul quadro strumenti. Volvo ha una versione aggiornata mostrata sullo schermo che è più affidabile della versione precedente. Numero 7. Alcuni modelli del 2016 sono stati richiamati negli Stati Uniti a causa di un tubo di spurgo del refrigerante difettoso che tende a sviluppare perdite di refrigerante. La riparazione consisteva nella sostituzione del tubo di spurgo del liquido di raffreddamento difettoso con una nuova parte migliorata. Numero 8. I dischi dei freni in alcuni di questi veicoli tendono a deformarsi facilmente e questo problema fa tremare il veicolo durante la frenata. La sostituzione dei dischi freno originali con dischi freno ventilati aftermarket simili al set mostrato sullo schermo risolve il problema. Questi sono alcuni dei problemi comuni che i veicoli utilitari sportivi Volvo XC90 di seconda generazione sono inclini a riscontrare. Buona giornata!